Buongiorno a tutti ragazzi siamo ancora noi giù per i tubos eccoci qui finalmente su FIFA 17 wow ragazzi prima partita oggi giochiamo a pro club ovviamente stiamo facendo questa modella perché tutti gli altri fanno tutte le stesse cose dei giorni subito ma ragazzi si comincia con pro club oggi e chi se ne frega di tutti gli altri vediamo come vanno in questa prima divisione ricopriamo palla cerchiamo di ripartire sto giocando con un mio amico sceva gol quello lì con i capelloni guarda lì guarda lì guarda lì ragazzi mamma mia mamma mia golasso ma che belle azioni mamma mia che belle azioni stiamo facendo questo FIFA mi piace davvero un casino ragazzi guarda qua che cross perfetto e poi arriva sceva 1 a 1 ragazzi calcio d'angolo siamo attenti siamo attenti che in pro club non si sa mai sui calci d'angoli eh vanno sempre un po' a random soprattutto perché i miei difensioni non staccano mai bene almeno sai come gli anni scorsi attenzione ma no 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 fuori gioco fuori gioco fuori gioco fuori gioco via 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 calcio di punizione battiamola in mezzo a caso attenzione uh gol eccezione fuori gioco mannaggia abbiamo segnato di tacco tra l'altro stall pazzesco ragazzi che gol abbia fatto purtroppo però fuori gioco fuori gioco attenzione vanno in avanti vanno in avanti riusciamo a tenerli no 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 non facciamo crossare oh madonna mia uh fuori gioco fuori gioco ragazzi doppio gol annullato pazzesco ragazzi vediamo se era in fuori gioco mi sembrava purtroppo di sì vediamo sì 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 ragazzi fuori gioco netto che non sanno hanno capito anche come si mette alla linea in fuori gioco attenzione no 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 il novantesimo no 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 umana palo via 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 no 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 cosa fate via ciò ripartiamo ragazzi ripartiamo andiamo ad attaccare vediamo se riusciamo a segnare magari un golletto al novantesimo attenzione se ne va via la palla lì no non ha tirato no finisce qui ragazzi finisce qui purtroppo la nostra seconda partita è la prima che sto registrando perché volevo un attimo provare pro club prima ecco qua una cosa una novità che si aumenta il livello dopo le partite quindi si aumentano le caratteristiche non ci sono più le sfide credo almeno io non mi sembra di avere le viste comunque sia si aumentano durante la partita tutte le stats e poi a fine partita ci ha reso conto eccoci qua seconda partita di oggi ballers partiamo subito c'è questo schema qua che a me non piace sinceramente però tissele attenzione guardalo lì guardalo lì in mezzo caspita non c'è arrivato nessuno la palla ancora nostra è solo che paratona ragazzi super parata addirittura guardate qua mamma mia col piedone proprio col piedone in famous sto portiere qua il cacchio è lo scuffetto dei poveri comunque ragazzi c'è un bellissimo schema voi la mettete sul primo palo e fate sempre gol praticamente infatti ragazzi traversa mannaggia è infallibile ragazzi in questo fifa come l'anno scorso c'erano all'inizio i gol da centro campo intanto c'è il gol segniamo noi ragazzi col nostro bruttissimo personaggio che in realtà a me piace un casino però so che è bruttissimo comunque sto dicendo se dall'angolo la mettete sul primo palo è sempre gol calcio d'angolo ragazzi schemone palla in mezzo 2 a 0 segna sceva ragazzi 2 a 0 ovviamente lo schema sul primo palo come ho detto funziona pretende sempre se vuoi riuscire ad anticipare i difensori è 99 volte su 100 gol attenzione c'è un barco incredibile barco incredibile un rigore rigore rosso probabilmente spero rigore rosso rosso e rigore rosso rosso rigore rovo rigore eccezionale rosso rigore per ai king il nostro personaggio che si lamentano so di cosa chiaramente fanno più di così cosa deve fare l'arbitro sicuro che anche l'autore del fallo attenzione per il 3 a 0 eccezionale ragazzi si gonfiarete si gonfiarete si gonfiare 3 a 0 rigore abbastanza bruttino ragazzi la battuta in mezzo però importante aver segnato ripartiamo da dietro ragazzi con calma il dribbling super mi sta riuscendo ragazzi usate spesso l2 r2 perché è veramente utile intanto il pian palla a se la rubano subito lo spi sono dicendo molto utile usare r2 l2 insieme perché si di si dribbla che una meraviglia attenzione intanto 4 a 0 se presceva tripletta penso per lui ottimo ottimo stavo giocando veramente bene ragazzi anche se all'inizio comunque mi piace un casino questo fifa e si gioca molto meglio rispetto a prima molto più bello fare le azioni devo dirlo mi piace mi piace 4 a 0 3 sceva 1 per me ancora pale in mezzo attenzione possiamo andare nooo cos'è sbagliato ragazzi non si può attenzione ancora pale in mezzo per i golpi easy ma c'è il rigorone un altro espulso mi sta eh infatti eh ma siete un po' dei bolliti ragazzi simens il solito simens sempre presente ormai da anni in pro club grandissimo simens parte sceva non me lo lascia a rigore infame uh e c'è il gol 5 a 0 5 a 0 ottimo ottimo ragazzi ottimo ottimo 5 a 0 ormai la partita è abbondantemente chiusa tutti a penseggiare si ok c'è un'orgia incredibile sul 5 a 0 poi vabbè finisce qui il match ragazzi finisce qui due partite due vittorie no un pareggio una vittoria scusate sto delirando 80 siamo neanche 80 ragazzi guardate qua quanto salgono le stats incredibile troppo lui pazzesco ragazzi comunque mi piace un sacco questo proprio abba aggiornato è molto molto più bello di quello di prima terza partita milano olimpia contro jens never nap vabbè ragazzi come ho detto non mi piace partire dritto però vabbè lo fanno tutti poi io faccio i passaggini non vado solo palla per il mio giocatore uochi ma la sponda guarda lì guardano lì in mezzo vai segna non ho fatto sbagliare non ho tirato ragazzi se ne è andato da solo fuori dalla porta super schema super schema signori super schema mamma c'è sparata palo palo è parata eh sì la parata su infame riproviamo ragazzi super schema dai e il cross a un portiere infame portiere infame attenzione la palla in mezzo il tiro o mamma mia ragazzi al primo tiro ovviamente al quarantacinquesimo perché pifa non è mai scrittato prove risultato che cambia dunque a pochi stai al quarantacinquesimo che nervi un tiro in porta hanno fatto ragazzi da un tipo 10 tiri a uno mannaggia sempre il solito pro club mannaggia o non è cambiato è ripartenza ragazzi anche sono già tutti dietro vabbè pazienza attenzione se ne va via catafratto catafratto il tiro a giro mamma mia ma di quanto è uscita mamma mia ragazzi come si fa a sbagliare queste cose dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare ragazzi è impossibile perdere sta partita attenzione attaccano loro palla in mezzo il tiro dai caspita ragazzi però due tiri due gol no cioè io non posso vedere queste cose nel 2016 ancora con queste robe due tiri due gol noi probabilmente siamo a 18 tiri qualcosa del genere the reader che noia che noia ragazzi prendere gol così mi secca attenzione ultima azione forse almeno forse riusciamo a fare il gol della bandiera no ci recuperano subito finisce qui purtroppo prima sconfitta stagionale peccato peccato ragazzi siamo sempre vicino all 81 credo sei partite rimaste comunque sia dovremmo farcela vincere la divisione se vinciamo come dice pardo riusciremo ad essere promossi e poi lotteremo per il titolo quindi concentrati ragazzi concentrati andiamo a prenderci questa bella vittoria speriamo sia bella e speriamo che sia una vittoria più che altro intanto già steso uno ragazzi calcio di punizione palla in mezzo uh recuperiamo via 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 in contropiede via il contropiedone non c'è nessuno non c'è nessuno ragazzi possiamo provare anche il gol della merda tanto siamo in pro club dai e uno la sbagliata non ci credo cosa ha parlato il portiere calcio di punizione batte lungo il purti riusciamo a prenderla facciamo un bel 1 2 guardalo lì guardalo lì attenzione rientra sul sinistro eccolo sblocca la partita che bella azione ragazzi siamo ripartiti come dei fulmini poi 1 2 del mio giocatore con uno della cpu che ovviamente controllo io e abbiamo fatto 1 a 0 ragazzi 1 a 0 gran gol ripartono dalla difesa passaggio schifoso ricuperiamo palla attenzione attenzione segna grandissimo sceva 2 a 0 ragazzi siamo sempre più vicini alla promozione errore clamoroso lì in mezzo poi abbiamo tirato una sassata sui piedi di sceva che la controlla e segna con un bel tiro alla sotterra 2 a 0 un pallo vabbè ricopriamo palla lo stesso pallavagante attenzione in mezzo riusciamo a tenerla e no però gli ritorna sempre ma che palle odio quando è così la palla lì oh l'ho presa tre volte guarda qua l'ho presa prima l'ho presa adesso alla fine segna però 2 a 1 sempre 2 a 1 va benissimo uh peccato peccato ripartenza attenzione sono eh no sono già rientrati in difesa uh però la palla rimane a noi attenzione non ho ancora le skill purtroppo uh peccato tiro normale alla fine non ho ancora le skill stavo dicendo se no avrei già uh guardalo qui easy goal easy goal ragazzi easy goal devo capire come sbloccare le 5 stelle skill e poi si skilla ragazzi in pro club finisce qui il match finisce qui siamo promossi manca adesso solo penso 2 punti 2 o 3 punti per la vitale del titolo siamo ancora 80 non capisco come una volta a sinistra una volta cioè una volta dal basso una volta dall'alto il il coso per completare l'ottanta non capisco bene vabbè tre punti dal titolo non due comunque andiamo ragazzi probabilmente questa sarà se la vinciamo sarà l'ultima della divisione 10 penso che si club appena creato quindi dovrebbe essere in divisione 10 se dove vuoi andare zio ma che ma che ma dove skilli ma vedi te ma vedi te ma vedi te si ma dove voglio andare anch'io addosso agli altri ripartiamo da dietro cerchiamo di fare qualcosa di bello attenzione e in linea era in linea era in linea era in linea vai 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 segna 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 uh arrivo io e segno eccezionale ragazzi ottima ripartenza con tre passaggi abbiamo ribaltato l'azione poi il portiere spinge sui nostri piedi e catafratto la butta in rete finisce il primo tempo dominata anche questa partita 5 tiri e 1 questi quanti non mi ricordo neanche il loro tiro però vabbè chi se ne frega stiamo dominando partite su partite a parte la sconfitta attenzione sulla sinistra attenzione non mette la palla in mezzo meglio per noi attenzione la palla rimane lì no rigore no dai pazzesco non è cambiato non è cambiato pro club cioè ditemi adesso dove è rigore non ho schiacciato niente era fermo immobile non ho fatto nulla non ho fatto nulla ragazzi cosa devo fare ma è possibile pazzesco io non ci credo quando mi danno questi rigori qua boh vengo meno proprio cioè boh non capisco questo vent'anni per prendere in corsa dai che alla fine tiri una cacchetta nooo l'avevo indovinata ragazzi non dovevo buttarmi anche se il portiere poteva alzare la gambetta e prenderla eh però vabbè caspita l'avevo indovinata mannaggia guardate voi guardate qua mannaggia per un peletto calcio d'angolo calcio d'angolo vediamo se riusciamo a fare noi lo schema no purtroppo no vediamo se riusciamo a mettere la palla in mezzo no ripartenza che chiusura che chiusura tira pazzesco che gol il gol che potrebbe darci il titolo il gol che potrebbe darci il titolo della divisione all'ottantatresimo golazzo di scema solo limona addirittura pazzesco limonata limonata in pro club però almeno siamo in vantaggio no 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 il bug del calcio inizio attenzione uno contro uno scema fai gol fai gol fai gol fai gol nooo dovevi fare gol come fai come fai a far ste cagate finisce qui finisce qui il match ragazzi titolo della divisione 10 incominciamo alla grande questa avventura su FIFA 17 con il titolo nella nostra olimpia milano vabbè non c'è prega nulla della coppa siamo quasi 81 sempre più vicini beh ragazzi che dire possiamo anche chiudere qui il video guardate qua abbiamo vinto purtroppo la sconfitta anche se immeritata l'abbiamo presa però poco importa l'importante è vincere la divisione beh ragazzi che dire io spero che questo video vi sia piaciuto nei prossimi giorni uscirà la prima il primo video sulla carriera ovviamente non vi svelo la squadra se no che gusto c'è voi mettete un piacere commentate condividete fate tutto quello che volete come al solito noi ci vediamo al prossimo video dopo ragazzi woohoo